Buonasera a tutti, voi siete tre municipi qua, io adesso verrò a controllare i vostri soldi perché questi fari sono potentissimi, dove li avete presi? Ma hanno gli ultravioletti? No, perché già sono abbastanza scuro, non vorrei rischiare di abbronzarmi ancora di più anche perché anche qualcuno qua di Roma, vostri amici, mi continua a confondere per sardo. Sarà che la Boldrini mi chiama Soriale, però effettivamente magari la carnagione può dare questa impressione, ma sono di Brescia. La Brescia di Renzo Bossi, la Brescia di Formigoni, che adesso però gliele stiamo fregando, sia a Renzo Bossi che a Formigoni. E perché sono qua io stasera? Io sono qua perché per l'ennesima volta sono stato sospeso. Altri 15 giorni. E prima si parlava di Genovese, voi dovete sapere che giovedì io la votazione di Genovese me la sono vista in televisione dall'ufficio. E stavo pensando, ma porco cane, Genovese il giorno prima era ancora seduto in Parlamento e io, perché sono veramente un grandissimo delinquente, dovevo essere in ufficio ed ero stato sospeso 15 giorni. Cosa ho fatto io di così grave in Parlamento? Mi sono seduto per terra. Durante la votazione IMU Banca Italia, durante il voto di fiducia, mi sono seduto per terra. Poi il giorno dopo c'è stata la votazione sulla ghigliottina, avete visto come ci siamo avvicinati ai banchi, ci hanno sospeso altri 15 giorni. 35 giorni in totale. Allora cosa succede? Vieni sospeso per 15 giorni, scoppia in Lombardia il caso dell'Expo e mi sono detto, vabbè, basta, prendo un aereo e me ne vado lontano. Me ne vado lontano dalla terraferma, vado in un altro paese. Prendo l'aereo e vado in Sardegna. Proprio per ricordare ai miei amici sardi che non ero sardo. Arrivo a terra ad Alghero con l'intenzione di dimenticare tutto quello che è successo sull'Expo. Vengono a prendermi i ragazzi del meetup di Alghero, mi portano in centro, andiamo a bere un caffè, ordiniamo un caffè, arriva il caffè sulla tazzina, c'è scritto Expo. Sulle bustine di zucchero c'è scritto Expo. Facciamo la Gorà, finiamo la Gorà, facciamo un incontro con i comitati, il giorno dopo riprendo l'aereo, torno a Roma, prendo un pullman, vado in Abruzzo, passo tutta la giornata in Abruzzo, vado a mangiare una pizza con gli attivisti di Abruzzo, ordiniamo il caffè e sulla tazzina del caffè c'è scritto Expo. Sulle bustine di zucchero Expo. Ma non finisce qua. Stamattina, oggi pomeriggio, sì, primo pomeriggio, riprendo l'autobus dall'Abruzzo, prendo l'autobus e arrivo a Tiburtina, a Tiburtina prendo la metro, arrivo a Termini, da Termini prendo il regionale, arrivo alla stazione centrale, alla stazione di Ciampino, a Ciampino me la faccio a piedi, arrivo fino al parco dove eravamo, il parco Aldomoro, mi accorgo di non avere i soldi per il caffè, vado al Bancomat, intesa San Paolo, Expo. Allora decido che anche stasera devo parlare di Expo, perché se mi persegui da un motivo ci sarà. Cos'è l'Expo? L'Expo non è solo l'infrastruttura di cui vi parlano oggi, l'Expo è un sistema delinquenziale che prende tutto, prende l'infrastruttura che c'è a Milano, ma non solo, prende anche le vie d'acqua, stanno sventrando dei parchi per far arrivare l'acqua all'Expo, prende la Città della Salute, un consorzio di ospedali che si volevano aggregare con una serie di tangenti per fare questi appalti, ospedali che ci sono anche in Abruzzo, ospedali che ci sono in tutta la Lombardia e ci chiediamo, è possibile che nessuno sapeva? No, noi sapevamo ed erano un po' di anni che lo denunciavamo, erano un po' di anni che con i nostri consiglieri in Consiglio regionale in Lombardia spiegavamo che c'erano dei forti problemi a livello di tangenti, spiegavamo che c'erano dei deputati che continuavano a avere degli appalti sotto mano da dividere e ti rendi conto che dalle carte incominci a notare i nomi dei soliti, i nomi di deputati, di persone vicine a Forza Italia, vicine al PDL, vicino a Formigoni, vicino a Comunione e Liberazione. Chi di voi conosce Comunione e Liberazione? Comunione e Liberazione è una specie di cooperativa, al posto delle cooperative rosse sono cooperative bianche, che hanno l'obiettivo di spartirsi gli appalti. Persone vicine a Forza Italia permettevano a Comunione e Liberazione di entrare negli appalti con una serie di tangenti, si prendevano gli appalti, ma durante le campagne elettorali quelli di Comunione e Liberazione prendevano in giro quelli delle cooperative rosse, dicendo quelli sono i tangentari. E poi leggi bene le carte e ti rendi conto che non è solo una questione di cooperative bianche di centro-destra, c'è dentro anche il centro-sinistra, ci sono dentro anche le cooperative rosse, c'è dentro un'azienda, una cooperativa che è la CMC di Ravenna, che è la stessa cooperativa che ha i lavori per il TAV, ed è possibile che i grandi appalti italiani, dove ci sono un sacco di soldi, finiscano sempre alle stesse aziende? Sì, perché poi c'erano deputati e persone vicine al Partito Comunista, al Partito Democratico, vicino al centro-sinistra, che sistematicamente si incontravano per dividere gli appalti e mandarli a CMC. E quando c'erano le campagne elettorali di Formigoni, io ricordo che in televisione si facevano la battaglia tra di loro, quelli di centro-destra dicevano quelli di centro-sinistra erano tangentari, quelli di centro-sinistra dicevano quelli di centro-destra erano tangentari, poi dalle carte scopriamo che dopo gli incontri che facevano in televisione andavano in pizzeria insieme per dividersi gli appalti. Allora la cosa fondamentale, l'ho sentita prima dai ragazzi, dai nostri candidati alle europee, o noi o loro, ma noi non diciamo o noi o loro così, per niente, noi diciamo o noi o loro, perché mentre loro producevano tutte queste cose e si regalavano queste tangenti, noi denunciavamo quello che stava succedendo all'Expo, mentre loro si intascavano i rimborsi elettorali, noi abbiamo deciso di mantenere le nostre promesse, e questo nell'esempio pratico, questo è l'assegno che martedì noi depositeremo con altri 5 milioni e 433 mila euro a un fondo che è il fondo delle piccole e medie imprese, è un fondo di garanzia, e la cosa più bella non è solo rinunciare a questi soldi, la cosa più bella è incontrare poi degli imprenditori che hanno utilizzato il fondo di garanzia, e c'è un imprenditore che ha avuto credito attraverso questo fondo, ha avuto credito da una banca attraverso questo fondo, è un'azienda che si occupa di agroalimentare, è un'azienda che occupandosi di agroalimentare deve fare delle scorte dei prodotti, e il pescato alcune stagioni ha una buona qualità e costa di meno, in altre stagioni è più difficile trovarlo, allora aveva bisogno di credito per fare uno stock di prodotti del pescato, ma le banche non gli facevano credito, ha provato per mesi ad andare dalle banche, ma le banche assolutamente non gli facevano credito, è andato da una banca a Mantova, ha chiesto di usufruire del fondo di garanzie per le piccole e medie imprese, la banca era informata, ha fatto la domanda a gennaio, e a marzo gli sono stati dati 150.000 euro, con questi 150.000 euro, lui ha potuto comprare lo stock di pescato che gli serviva, e facendo due conti ha ottenuto anche un tasso di interesse che è inferiore di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse che qualsiasi altra banca gli poteva fare, e facendo altri due conti scopri che attraverso questo tasso di interesse inferiore gli permetti di risparmiare oneri finanziari per 6.000 euro, e questa persona ci ha spiegato che avendo la possibilità di fare ciò andrà ad assumere altre persone. Allora vedete cosa succede, ci parlano di lavoro, ci parlano di occupazione, chiamano uno che era dentro le cooperative rosse per fare il ministro del lavoro, e proclamano chissà quale soluzione, il job set, l'occupazione che in realtà precarizza, ma bastava, cioè vedete come si passa dai nostri soldi, dai soldi che ci sono stati versati, ci vengono versati ogni mese, e in totale abbiamo restituito 10 milioni di euro, a un fondo per le piccole e medie imprese, a un credito fatto dalle banche, a un posto di lavoro per un giovane di 30 anni che non ha lavoro oggi, si passa dai nostri soldi, dalle nostre diarie, da quello che risparmiamo dalle nostre diarie, al credito a un'azienda, a una possibilità di lavoro per una persona che ha 50 anni, che lavorava nell'agroalimentare, ma che oggi non ha più lavoro, queste sono promesse che noi manteniamo, o loro con le tangenti che si sono presi, o noi con la restituzione dei nostri soldi, o loro con le riforme della Costituzione, e la deroga dell'articolo 138, ci sono date che io non mi toglierò mai dalla testa e dal cuore, voi vi ricordate cosa abbiamo fatto il 6 settembre del 2013, il 15 marzo è stata la prima seduta, il 6 settembre cosa abbiamo fatto? il 6 settembre eravamo sui tetti, e mannaggia quando siamo andati sul tetto ragazzi, perché eravamo un gruppo di deputati, eravamo un po' di ragazzi e un po' di ragazze, e mentre le donne come sempre sono più sveglie, noi uomini siamo stupidi, ma stupidi, stupidi, io ero con una maglietta, maniche corte e sopra la giacca, abbiamo detto vabbè è estate, siamo appena tornati dalle vacanze d'agosto, farà caldo, andiamo sul tetto e le donne avevano dietro, piumini, felpe, sacco a pelo, le batterie per i cellulari, le batterie per i notebook, un caricatore d'emergenza, i viveri, io, Alessandro e gli altri tranquilli, maglietta tanto, farà caldo, non abbiamo dormito, mentre loro stronze hanno dormito tutta notte, però noi abbiamo difeso la Costituzione, mentre loro ci stavano facendo credere che la deroga all'articolo 138 era una cosa prioritaria, era la cosa più importante per il Paese, sembrava in quel momento, chi di voi sa che fine ha fatto la deroga all'articolo 138? Non c'è più, che fine ha fatto l'italicum? Che fine hanno fatto le riforme costituzionali? ci fanno credere, che fine hanno fatto i saggi? I saggi, che fine hanno fatto? Io mi aspettavo di vederli qua al parco a mangiare ai piccioni, il titolo quinto, cioè sistematicamente, ciclicamente, ad ogni giro, ci fanno credere che c'è una priorità importantissima per il Paese, che va però nel loro interesse, si rendono conto che l'italicum serviva a loro e al PDL, noi saliamo nei sondaggi e affossano l'italicum, ma era una cosa prioritaria. Allora, o noi o loro, per il semplice motivo che mentre loro presentano un miliardo di marchette nella legge di stabilità del 2013, noi facciamo passare un semplice emendamento di tre righe, lo facciamo passare alle 4 di notte, io me lo ricordo benissimo, era in commissione bilancio, ci eravamo accorti verso mezzanotte che non alzavano più la mano per votare. Ragazzi, a mezzanotte, cioè non è che mi chiamano Sorial Killer per niente, a ogni singolo emendamento dovevo intervenire cinque minuti, non ce la facevano più. Voi pensate che un mio collega, a Laura Castelli, che è la mia collega in commissione, gli hanno detto che era peggio di un cane attaccato al polpaccio, quella nottata lì. Questo era il livello, a mezzanotte ci rendiamo conto che non alzavano più la mano, al che diciamo vabbè, presentiamo l'emendamento Fantinati. Presidente, vogliamo far votare questo emendamento? Eh no, ma secondo l'articolo tal dei tali noi possiamo far presentare questo emendamento e richiediamo che venga votato adesso, solo le 4 di notte, adesso. Boccia, emendamento tal dei tali, prima firma Fantinati, chi è a favore? Alziamo la mano in sette, noi della commissione bilancio. Chi è contrario? chi è contrario? Colleghi del PD, emendamento 5 stelle, chi è contrario? Alza la mano in 4, io lo guardo in Cagnesco, è approvato. E abbiamo fatto approvare un emendamento che è diventato legge, che è uno delle 100 norme che noi abbiamo fatto presentare da opposizione con le televisioni contro, con gente così come la Boldini in contro di noi. Ed era un emendamento semplice, tre righe di emendamento, è il lavoro più difficile. Non è stato scrivere l'emendamento, è stato andare a vedere se esisteva già nella legge. Perché quando è stato scritto abbiamo detto è impossibile che non ci sia già una cosa del genere. È impossibile che loro permettano alle aziende che hanno preso soldi, finanziamenti dallo Stato per fare investimenti in Italia, permettano a queste aziende di andare all'estero lasciando a casa i dipendenti in Italia. È impossibile! e invece era possibile. E il nostro emendamento è molto semplice. Se il signor Mario Rossi che ha un'azienda a Brescia, questa azienda fa 15 milioni di euro di fatturato, fa due conti, si rende conto che con i suoi mille dipendenti fa 15 milioni di fatturato, se va in Romania fa 30 milioni di fatturato e incomincia a lasciare a casa prima 100, poi 200, poi tutti i suoi dipendenti in Italia. E Mario Rossi ha preso soldi dallo Stato per fare investimenti in Italia. Se Mario Rossi se ne va all'estero, lascia a casa i dipendenti in Italia, deve restituire ogni singolo benedetto centesimo dei soldi che ha preso. e voi immaginate cosa sarebbe successo se questo emendamento fosse stato legge due o tre anni fa. Voi immaginate come ci saremmo inseriti all'interno delle dinamiche della Fiat e di tantissime altre aziende che sono andate all'estero per profitto, per soldi, per fare soldi, lasciando qua i propri dipendenti. allora ci parlano di lavoro, ci parlano di soldi, di coperture, le cose sono molto più semplici di quelle che ci fanno credere, le cose sono molto più semplici delle soluzioni che ci prospettano. I ragazzi hanno parlato di Fiscal Compact, c'è anche il fondo di redenzione, se loro dovessero andare in Europa, o loro o noi, ma se loro dovessero andare in Europa e non avessimo i soldi per il Fiscal Compact, scatta il fondo di redenzione, è Equitalia degli Stati, è un prelievo forzoso, cercerebbero di fare di tutto per recuperare quei soldi da noi, dalle nostre tasse, dalla nostra spesa pubblica, svendendo tutto quello che stanno svendendo e attenzione, lo stanno già facendo, hanno già iniziato a svendere le poste, hanno già iniziato a svendere tantissime nostre cose e noi non possiamo più assolutamente permettere che loro svendano le nostre vite per ripagare interessi privati, questa è una cosa importante, stanno giocando con le nostre vite. Allora, concludo molto brevemente perché noi in questo anno c'è ragione Robertina, mi hai fatto dimenticare quello che volevo dire. Concludi brevemente dicendo vinciamo noi. Scusa che mi pagliono segni. La capogruppo più bella e competente che abbiamo mai avuto alla camera anche perché finora è stata l'unica donna Roberto Lombardi.